e tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del mondo di greco siamo qui su fornit in compagnia di edo ciao a tutti ragazzi edo spiega cosa facciamo oggi non è proprio una challenge cerchiamo di vincere con le costruzioni edo sarà un po arrabbiato perché edo intanto lui gioca praticamente solo quelle costruzioni che è successo ok e comunque domani c'era un video su freddy's ultimate custom night in anteprima questo video quindi per questo chiedo a questo video e non quello di domani un mi piace da ogni un libro che sta guardando e per questo vi dobbiamo arrivare 5 mi piace iscrivetevi che siamo quasi ai 100 iscritti vero edo sì e ci vediamo in partita ok pausato edo non si sta se ho pausato sì o no non so come funziona questo tasto ok ragazzi siamo tornati in compagnia di uno non sappiamo chi è si chiama uno sconosciuto uno sconosciuto che vabbè abbiamo avuto strampo di luce abbiamo messo i terzetti sì era una boh abbiamo cercato peccato che non parla però vabbè non si avrebbe già fatto casino con le sue lingue arabe vai mamma mia che forte avete visto anche voi aspetta che becco quella quella specie di fessura che c'è tra lui cosa si aspetta che becco no vabbè dove terriamo porti i dones i jonas i jonas i jonas i gonas la cosa bella è che era il 50 di scudo ma non avrebbe senso perché è utile ok è utile però ok è utile però non ha tutto quel senso ma sì perché 150 e 100 è come avere 200 e 250 quindi una t-shot col quel cecchino è più forte quindi certo con cecchino di shot questo che dico tipo adesso che io 50 di sceldo 200 di vita quindi mi tolgono tutto lo sceldo e tutta la cosa io dico è meglio averlo scudo che non averlo se non ho detto che non ci sta solo detto che non avrebbe senza vero e poi questa cosa mi piace un botto certo sono tutte le volte delle armi un po inutili però che il mio inventario sarebbe piccone c'è da buttare c'è qualcuno mi stanno sparando ma io sono un po un po blu come un po blu si è un po un po blu arrivo dove pinga 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 ah tu sei la arrivo c'è quello che dico guarda io sono ancora il benzinaio però mi spavano aspetta ne ho uno dietro ci pensi tu voglio questo qua provo a farlo schifo ci pensi tu perché io qua questo è è forte no fa schifo no questo shotgun non è ok è morto aspetta non sprechiamo i colpi prendiamo a picconate un bel coromo blu bello non male non male perché poi sai cos'è la cosa utile perché a me da fastidio quando tipo ti colpiscono con la mitraglietta ti tolgono lo schifo ma non tanto e non ti tolgo niente altro almeno almeno qua non ti tolgono niente solo quello quello si fa normalmente da solo edo vuoi un cromo io sì però aspetta che ce l'ho blu ah ho capito sai perché si chiamava un po fucile per fa tu 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 come il vampa a fucile ci penso io bravo cosa scusa cubetto ah ecco c'è gente qua c'è gente qua c'è gente prima hai anche cubo ma signore lei è proprio fastidioso aspetta che la ingaggi non ucciderlo lo volevo ingaggiare tanto che c'è un altro edo tu pensa questo e pensa l'altro che c'è qua quattro penso io nemmeno insieme io non ho colpi morto c'è la colpi di pompa io ne ho 0 di pompa assalto ancora di meno quanto io ne ho 0 letteralmente e allora vado a cercare dei colpi forse qua ok splash forse si splash e dove vieni qua no ma a me non serve volete a fare se me li fai ah scusa non ce l'ho no 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 niente ho già 100 di vita conosciuto dovrei andare a fare un po' di crepe mi sto annoiando abbastanza si anche voi ragazzi mi sa che ho due chiavi io adesso come due mi compro quello anzi no si si vai vieni oh di me no 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 adesso andiamo in un posto dove ci sono il pompa bello io ho tutto blu DMR blu oh qua ci sono i cosi come si chiamano levo cromo il cromo no ti cosa ti prendo lo posso questo ok se me lo rubo a questo ok no scusa signore aspetta boh no è vero che non è 0 oh grazie che ne crei questo che pezzo ecco l'ha preso no l'ha preso il tuo viola si no è un pezzo di cioccolato sciolto grazie poi me l'ha dato aspetta che lo boxo così impara la lezione non ho capito se hai il tuo pompa o no si ce l'ho ce l'ho il pompa allora ragazzi direi una cosa facciamo che ci vediamo quando c'è un fight ok no 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 teniamo ancora qua va bene allora teniamo teniamo qua teniamo ancora le ragioni facciamo vedere un po' il game signor pollo pollo svaldo ragazzi vi dirò che vado a bussare un po' di gente tipo con la gente lì mi sta molto siamo in 53 magari questo un quanto rampino no tu tu pollo del cavolo con la macchina con le mani con le mani con le mani ciao ciao ho fatto un po' una cavolata qua è stata molta gente molta 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 gente sto andando tramite il mezzo che si chiama sai come si chiama granata un da urto cioè le shockwave sto arrivando ho pingato esattamente lì c'è della gente che si sta purando e sparando stava sparando a me fatto adesso credo che vedi gli spari dove? non li senti? ah si 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 li vedo io ho le vocromo quindi ok sono qua da me da me da me ho sentito passi eccoli ok io penso a questo tu pensa all'altro ok uno è andato ok bel fucile un'altra chiave vedo ho due chiavi quindi se ci troviamo un cavolo siamo a posto qua cosa mi da? niente uno shieldone che mi prende ah lì dove? questo me lo crea pregano anche la cosa della tipa edo tieni un attimo così vi serve porto uno se vi serve questo tira una mano edo tira una mano no 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 faccio io faccio io faccio io faccio io faccio io faccio io faccio me faccio me la mano faccio me la mano faccio me la mano e davanti a me edo grande edo aspetta qua aveva un bel pompa c'è un bel cecchino un evo cromo che prendi tu ok va bene ci sta c'è quello blu Greg evo cromo no 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 quello blu ce l'ho già c'è più o meno prendo il DMR blu o il cecchino cecchino tutta la vita io farei cecchino cecchino tanto il DMR ce l'hai già tu quindi cecchino viola Greg ce l'ho già 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 ce l'ho giola sì perché non ho assolutamente una cura ho due splashman non è che sia mio qua ho sentito ho visto ragazzi poi io sono cieco credo di aver visto un gatto come si dice sai quei detti ah sì lo presento adesso c'è un nevocromo blu no ma perché ho spingato un colpo di cecchino adesso io sono pieno di colpo di cecchino me l'hai un po' certo io tiro una chiave in cambio ma vabbè ah là c'è il cavo edo là c'è il cavo dietro di te c'è il cavo là e c'è anche gente io ne ho tre edo io ne ho tre c'è dammi una per colore edo c'è qualcuno però là mi spara dove e lì è un cinghiale strano ragazzi scusate la mia ignoranza non so proprio i personaggi di dragon ball ok 105 eh l'ho ucciso quasi vai edo ci pensi tu io zero fu un cecchino se voglio evolverò in oro ci sparano ah no è quello lì che mi spara edo sei ok mi dai col più cecchino se tu mi dai una chiave in cambio ok va bene te lo do tutti aspetta no questo questo tiene una chiave però in fretta edo la prende lui grande vai vai sono qua andiamo qua dal cavo edo corri chissà che peccato che non possiamo blindare lasciare questa qua fuori signora no le do metti la chiave dai il nostro ti proprio vabbè 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 signora gentilmente il cavo è nostro vabbè prendi tutto quello che ve no questa non la uso forse mi prendo questo tanto 50 di scudo ce li ho c'è questo ragazzi se volete un airdrop questo me lo prendo io ok un'altra cassa così cecchino niente per un'altra chiave sto panicando sai che durò più lungo vai uh bello quanto infortunato queste robe non so appunto vedi qua che c'è ti faccio c'è nessuno a nessuno serve però io lo faccio lo stesso ci sparano ci sparano vai io mi faccio gli ultimi di queste anche se stanno inutili però è soddisfazione 76 1 pinga che ho il cecchino io dietro là dietro là ok lo vedo vero vero lì sopra adesso vedo l'ombra preso ucciso che trick cioè non stiamo su stumble l'ha finito il tipo non stiamo su stumble guys ma è un trick di fortnite penso che i miei amici lo chiamano fortnite allora vorrei che aggiungerò un altro dove pinga adesso viene era scappato erano insieme comunque io ho il eccole qua 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 ahia mi ha preso ok l'abbiamo guardate se vi ho buttato la kill e se vi ho rubato la kill cosa hai detto? ho rubato la kill ah ok ok io sento male ce l'hai un guantorampino no prendi una lambo date voi due io il guantorampino tanto una chiave grande io non tre però fa niente vabbè e lo ma tu lo sapete che in queste casse qua quali? che trovano delle armi quali? in questi barili ah quei barili in alto ah adesso proverò qualcosa di brutto niente ok qua ci sono delle splash vai vai e lo ti venga a prendere no no non ce la faccio però non lo stanno che ci sia e lo ci sparano mi sparano scappa Greg devi scappare solo ok 105 la cacca e vedo non è la cacca più totale perché mi stanno facendo scappa scappa e basta basta da dove però questo è quello che mi curiosisce ah da qui dietro sopra da me ah lo vedo da qualche parte dovrà esserci lo vedi eh io sono in più vicino a lui io sono in due arrivo Edo sono dietro di te non sono lì ah non sono lì ok un è andato Echiot ok l'altro è qua ahia grande scusa Edo niente c'è delle cure si è più o meno aspetta lancio questo mi faccio delle cure attento salto un po' per evitare che ci ammazzino tu devi prendere tanti scudi Edo cosa prendo l'assalto normale è leggendario o il martello epico l'assalto ok il leggendario il martello lo lascio che è anche se epico è qua sono qua sotto Edo sono da me anche da me io pensavo uno tu pensavo ok no è lui è lui no mi zicca ma era un hacker no no non è vabbè ragazzi terza posizione è mica in male quindi per oggi è tutto e ci vediamo in prossima ciao ciao ciao